Oggi farò un piccolo esperimento sociale. A me capita molto spesso quando taggo tipo le pagine Spotify Italia o Spotify in generale, pagine grandi, su Instagram, appunto per tentare che il mio brano emerghi, insomma non giudicatemi, qualsiasi persona l'ha fatta, non so vero. Mi scrivono delle persone strane, mi commentano la foto o il video che ho messo con Promoteetone e la pagina di qualcosa che non è la pagina loro, nel senso le persone che commentano non sono la pagina stessa. Ora, vi faccio vedere. Ok, come potete vedere qua mi hanno commentato queste due persone. Boh, se vado sul loro profilo, profilo privato, un post, insomma, vabbè. Anche questo qua, stessa cosa, infatti ce l'ha libero però con quattro foto, insomma, avete capito? La pagina che mettono loro è questa qua. Interessante. Gli ho detto, infatti, guardate questo ragazzo qua. Ok, questo ragazzo qua. Perfetto. Andiamo nell'altra pagina. Ok. È lo stesso. Adesso non capisco, non capisco, non voglio capire. Cioè, no, in realtà vorrei capire. Perché? 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 E con voi voglio fare questo. Ehm... No, ho pagato. No. 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 Ho un vuoto di memoria. Grazie, correttore. Vediamo cosa succede. Abbiamo qua Carlos Franco. Esprimi la tua opinione su questo fenomeno. Allora. Grazie. No, è una cacata pazzesca. No, siamo family friendly. Ah, è una diarrea risaltata. No, è una cacata pazzesca. Ehm, no, è falso, tutti e due i profili sono falsi, soprattutto perché ci sono delle cose completamente a caso, condividono le cose completamente a caso. E non ha senso che hai un milione di bis di seguaci seguiti. Seguaci. Seguaci. A essi 58 mi piace. Non ha senso. Quindi il mio consiglio è... Fai il geometra. Ok, bene. Allora, questo esperimento può tranquillamente concludere, dato che dopo una giornata il tizio ancora non ha risposto. Quindi, questo è. Allora, io adesso non so se questa persona o questa pagina veramente possa promuovere, perché non l'ho provato. Quindi non so dire effettivamente se funziona o meno. La cosa è che sembra un po' dubbia come cosa, nel senso, una persona che appena taghi una pagina ti scrive, promuovi la su sta pagina qua, linka da un'altra pagina. Sarò io, ma non... Cioè... Perché? Perché?